La distruzione dei paesetti è una delle tante trovate del Necchi che in questo tipo di invenzioni è meglio di un Guglielmo Marconi. Questo gli è proprio da distruggere. Ce l'hai la roba? Sempre. Porta ragazzi, datemi una mano. A me il tre piedi, eh? Subito. Pronto, ingegnere? Deve passare di qua. Posso prendere gli strumenti? Sì, giometra, presto. Pronto, ingegnere? Toneometro, teodolite, livello e stagge. Di qua, tutto giù, via. Voilà. La sud, cavalca via. La mappa. Obiettivo. Da questa parte due colline da spianare. Prego il calcolatore per riportare in pianta. Quell'uomo, sentite? Lecometro, scappellamento a destra, tenete. Pronta la livella? Prendiamo misure con teodolite. Senti con le stagge. Vado subito, ingegnere. Misurazione. Ridammelo. Messe le stagge. Numeri? Sì, otto metri e dieci. Centodiciassette. Centodiciassette. Posso cominciare? Sì, segni le case da abbattere. Bene. D'accordo. Ma che la fanno questo lì? Centoquattordici. Centoquattordici. Zack e zack. Qui tutto giù. E niente bulldozer. O dinamite. Tritolo. Che fate voi qua? Vi lasciateci lavorare. Comprate. Calma voi. Zack, 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 zack. Per favore. Basta così. Anche la chiesa è sistemata. Mi dispiace. Caro assessore, ordine della regione. Ecco, lasci pure. Parco io, ingegnere. Mi raccomando, bisogna provvedere ai futuri senza tetto. Tende, rancio, antibiotici, qualche coperta e soprattutto molti ombrelli. Andiamo. Arico completato. Si parte. Ma che sto sempre in mezzo io. Guarda, guarda, guarda. Guardi prete, guarda. Ma che succede? Gli siete? Ma come? Non lo sa, reverendo. Di qua passerà l'autostrada delle cinestre. Questa è la direzione. E lì ci sarà un grandissimo svincolo per la tangenziale est. È l'ente regione. Oh, madonnina del signore. Presto, presto, suonate le lampane. Fedeli, presto. Lampane. E lì ci sarà un grandissimo svincolo per la tangenziale. E lì ci sarà un grandissimo svincolo per la tangenziale.